Gelato biscotto Mescola in una ciotola lo yogurt greco, la ricotta dolcificante Compone il sandwich mettendo un po' di crema su un biscotto e appoggiaci sopra all'altro biscotto Fai riposare in un freezer per almeno 20 minuti Trita grossolanamente la frutta secca e fai sciogliere il cioccolato fondente Prendi il biscotto e immergilo a metà, prima nel cioccolato fondente e poi cospargilo nella granella di frutta secca Fallo riposare in un freezer per almeno mezz'ora prima di servirla Adatto ai vegetariani, spuntino post workout e sono 4 porzioni